Sei pronto a sfidarmi? Questo è Sfida Yolanda! Unibet ti dà la possibilità di confrontarti con me con una multipla. E allora fai così, vai sul sito unibet.it alla sezione dedicata e scegli la tua multipla con ben tre partite. Puoi sbizzarrirti come vuoi, dalla Ligue 1 alla Premier alla Serie B, Champions ed Europa League. Io questa settimana mi sono soffermata sull'Europa. Ed anche per questa settimana ho scelto le mie tre partite. Sono pronta a lanciarvi il mio guanto di sfida. Queste le mie scelte. Partiamo dalla Juventus che affronterà il porto di Balai già carico. Sono già pronti i tifosi della Juve e quindi per me allo Stadium ci sarà un bel uno. E poi Atletico Madrid, Bayer Leverkusen al Calderon ci sarà un bel pareggio secondo me. E poi dalla Champions ci spostiamo in Europa League dove la Roma affronterà il Lione. In casa gli uomini di spalletti per me vinceranno. Vi do anche qualche dettaglio in più sul bonus. Se io dovessi vincere dovreste totalizzare più di me per poterlo ottenere. Se invece io dovessi perdere tutti coloro che centreranno la loro multipla riusciranno ad ottenere. È tutto amici, queste sono le mie scelte. Adesso tocca a voi. E ricordati di commentare con me con l'hashtag SfidaYolanda su YouTube, Twitter e Facebook. Che la sfida abbia inizio! 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 Che la sfida abbia inizio!